Dalla fine della pandemia ad oggi, a Napoli sono spuntati come funghi, bar, baretti, pizzetterie, sprizzerie, frigitorie e tutto è avvenuto in un fazzoletto di territorio che va dai decumani al reticolato dei quartieri spagnoli a Chiaia, che per la verità era già ben fornita. Questa grande palinoteca all'aperto, che pure tanto sembra piacere ai turisti, ha i suoi contro, una movida spesso fastidiosa e violenta, concentrata in poche strade e luoghi d'arte deturpati dai negozi del food e dell'asporto. La richiesta di nuove aperture, peraltro, è in costante aumento. L'amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi sta studiando dei correttivi. Servono norme nazionali più stringenti, fanno sapere da Palazzo San Giacomo. Intanto in municipio l'assessore alle attività produttive Teresa Armato sta lavorando a due delibere per tutelare alcune aree e conservarne la loro vocazione. Una delibera riguarderà i beni culturali e servirà a tutelare, ad esempio, le piazze storiche e i luoghi dove ci sono aree monumentali di particolare pregio. In quei luoghi non si potranno aprire locali di food da asporto. La seconda, invece, punta a tutelare aree specifiche, come San Gregorio Armeno, dove ci devono essere solo gli artigiani dei pastori, via San Sebastiano, solo i liutai e chi vende strumenti musicali, e al borgo orefici, solo gli artigiani dell'oro. Entrambe le delibere dovranno essere pronte entro qualche settimana, ma i buoi, forse, sono già scappati dalla stalla.